Talento, passione, ovviamente sostenibilità e perché no anche baci Tiziano Pesce, presidente nazionale WISP, parafraso, insomma la canzone di Prince appena ascoltata. Tante piazze allora la maggior parte domani perché gioca gin è nel weekend ma già in questi minuti si comincia Catania, giusto? Assolutamente, tante attività sportive a partire dalle ginnastiche, dalla danza, dal pattinaggio, dai cimini orientali ma poi ogni città ci regala proprie specificità, colori, musiche, divertimento, tante coreografie ispirate al tema della pace, dell'amicizia tra i popoli, 17 e 18 febbraio appunto le date centrali ma con un calendario che ci accompagnerà fino al mese di giugno la partenza di giocagino oggi è data da Catania perché proprio mentre noi stiamo parlando in diretta giocagin è inaugurato al palanitta di Catania, i ragazzi e le ragazze in questo caso dell'oratorio Giovanni Paolo II porteranno in scena una coreografia ispirata proprio alla pace, al rispetto delle persone, all'amicizia e a tutti i partecipanti verrà poi consegnato al termine della manifestazione un attestato di partecipazione con una frase di Gianni Rodari ci sono cose da non fare mai né di giorno né di notte né per mare né per terra, per esempio la guerra ma oggi essendo in terra siciliana sarà il momento anche del giocagino a Trapani del giocagino a Camarate in provincia di Agrigento, a Prizzi in provincia di Palermo ci spostiamo in un volo ideale virtuale a Trento dove invece nel pomeriggio si alterneranno sul palco decine di associazioni con coreografie di danza, in questo caso anche esibizioni con tessuti aerei e una particolarità quella con delle danze storiche della tradizione trasfrontaliera isalo-austriaca ma poi oggi giocagino si svolgerà anche a Rosignano Solve in provincia di Livorno, poi domani avremo giocagino a Firenze, a Taranto, a San Mignato in provincia di Pisa, a Civitavecchia nel Lazio, ritorneremo in Sicilia con la tappa di Giarre, in Puglia saremo a Barletta, Martina Franca in provincia di Taranto, veramente un ricco palinsesso, un ricco calendario e tutte le tappe si possono trovare sul nostro sito nazionale Wisp.it Wisp.it appunto hai detto bene Tiziano complimenti ancora e buon giocagino a tutti, via allo sport grazie, grazie davvero alla prossima